ciao a tutti bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game oggi parte una nuova serie f1 o formula 1 2014 dove faremmo in questi primi quattro video che usciranno una volta alla settimana quindi dei test di valutazione non so se saranno solo quattro di più perché per ora qua me ne da quattro sono degli scenari pre confezionati di questo videogioco poi a marzo nelle stesse data in cui iniziò il campionato nel 2014 inizierò il campionato del 2014 di formula 1 che ci accompagnerà fino a fine novembre è già tutto registrato è già tutto pronto si pubblicherà in automatico su sul canale di youtube ora io non so cosa devo fare qui andiamo a scoprire mi ha appena pronto a premere l'acceleratore il test di valutazione sta per iniziare devo completare un giro questo basta non ho mai guidato quest'auto scoprirete con quale scuderia ho fatto il campionato come è andato a finire come poteva sarebbe potuto andare a finire vedrete gli errori i miglioramenti nel corso della stagione vedrete tutto ho cercato di non tagliare quasi niente sarà un formato particolare in cui usciranno i video ve ne accorgerete sono non ho contato quanti sono assi sono più di 40 più queste a quattro video più non so quanti questi scenari pre confezionati quindi test di valutazione terzo ok ma l'obiettivo era che io dovevo vincere o solo finire il giro ok prosegui vediamo che succede adesso carriera molti giocatore gran premio banco di prova ok allora ci vediamo la prossima volta con il secondo test di valutazione ciao a tutti